Si sono conclusi i lavori di demolizione delle case di Moletolo e Baganzolino che si trovavano nell'area golenale del torrente Parma e che in passato erano state ripetutamente invase dalle acque in occasione di varie piene. Si tratta di 16 abitazioni contemplate nel primo stralcio dei lavori. In questi giorni inoltre il Comune sta per approvare il progetto che riguarda il secondo stralcio e che interessa altre quattro abitazioni. La Regione ha stanziato ulteriori 230.000 euro per completare il secondo stralcio. Dopo l'approvazione da parte del Comune del progetto esecutivo si procederà alla gara per individuare l'impresa che si occuperà delle demolizioni. La conclusione del primo stralcio rappresenta un importante obiettivo anch'esso finanziato della Regione che ha anche provveduto a risarcire i proprietari del danno derivato dalla demolizione consentendo loro di acquistare nuove abitazioni situate al di fuori della Golena e quindi in aree sicure. Il piano di delocalizzazione che l'amministrazione sta portando avanti rientra nelle politiche volte a promuovere la messa in sicurezza delle aree golenali del territorio a dirlo è l'assessore Michele Alinovi. Il piano si affianca ad altri provvedimenti che vanno in questo senso e che interessano insediamenti a rischi e esondazioni presenti in aree come per esempio quelle golenali del torrente Baganza. L'obiettivo è univoco la messa in sicurezza del territorio e la prevenzione dei rischi idraulici e idrogeologici. La demolizione delle 16 unità abitative è venuta ad opera del Comune attraverso l'impresa FEA di Castelfranco che si è aggiudicata all'appalto per circa 230 mila euro dopo l'accordo di programma sottoscritto tra Comune, Provincia, Regione e tutti i possessori a vario titolo delle unità immobiliari individuate dal progetto di delocalizzazione.